Nella sala giunta di Palazzo San Giacomo stamattina il sindaco Luigi De Magistris e il presidente dell'associazione Operatori di Pace Campania Onlus Gianmarco Pisa hanno illustrato il progetto Corpi Civili di Pace in Kosovo. Napoli è la prima città che aderisce alla realizzazione di questo progetto, una sperimentazione innovativa con cui saranno formate squadre di intervento nelle situazioni di emergenza per prevenire la violenza e creare condizioni di conoscenza e cooperazione nel campo dell'integrazione degli immigrati. Corpi Civili di Pace formati per affrontare le crisi dunque, ma ha anche un modo per condividere pratiche di sviluppo sociale e di investimento sui territori. È un progetto che avrà anche un ritorno a Napoli nello scambio di esperienze e nella collaborazione fra le associazioni italiane e quelle balcaniche impegnate nella sperimentazione, in particolare per la metodologia operativa di gestione dei conflitti di comunità. Quello che si fa in Kosovo è quello che si farà anche a Napoli, l'idea di costruire delle squadre che intervengono nell'emergenza con l'obiettivo di prevenire la violenza nei territori è qualcosa che ha a che fare con la dinamica sociale del Kosovo, ha a che fare per motivi completamente diversi evidentemente, ma con una ragione di essere specifica anche in un territorio metropolitano come quello della città di Napoli. Napoli vuole essere capitale dei diritti umani in Kosovo con delle associazioni che si impegnano per fare il corpo dei volontari civili, corpi di pace, ma non per andare a insegnare alle popolazioni dopo magari averle bombardate come si fa la pace e l'integrazione, ma farla insieme, quindi costruire relazioni umane prima delle relazioni economico-commerciali.